Significa riprendersi il tempo libero che ci è stato tolto in questi ultimi due anni, significa per la città di Bari e per il quartiere filistico ripartire con una manifestazione sentitissima dai baresi, una manifestazione per le famiglie, per il divertimento, per la spensieratezza all'insegna dell'ottimismo per poter ripartire in grande forza, perché di tanta forza abbiamo bisogno, per poter ripartire dopo questi bruttissimi periodi. Prima di tutto devono aspettarsi qualche ora di spensieratezza e di divertimento, e poi possono vedere tante cose interessanti, dalle macchine d'epoca all'arredo dei giardini, delle ville, al florovivaismo, agli hobby per gli animali e quant'altro, al freestyle, la mobilità sostenibile, tanto divertimento e qualche ora di spensieratezza, ripeto, per tutti i baresi, perché è arrivato il momento di riprenderci il tempo libero, di riprenderci la nostra spensieratezza, la nostra libertà, la nostra voglia di stare insieme. Sì, c'è un segnale di ripresa, ancora non fortissimo purtroppo, ma c'è un segnale di ripresa, ma soprattutto c'è un segnale di voglia di ripresa, ed è questo che vogliamo sottolineare con questa fiera, ma ripeto, perché deve essere un segnale di ripartenza e di ottimismo per tutti quanti.